Ciao amici, benvenuti o bentornati! Da oggi si parte con la nuova rubrica Opera Travel e come promesso vi porterò con me in giro per il mondo. Siete pronti? Si va! Siamo on the road, inizia la vacanza! Eccoci arrivati a Pozzuoli, questa è una caratteristica piazzetta del centro. Quella lì in fondo è Capri, Procida la immaginiamo, sarebbe lì. E adesso si va in giro per le vie di Napoli. E questa goduria qui è la pizza di nonna Filomena. Qui invece abbiamo il famosissimo Monastero di Santa Chiara. Invece questa facciata è fatta di tutte quelle piccole piramidi che vedete. Ognuna delle piramidi ha un neuma inciso su. Hanno provato a riprodurre la melodia suonando da un lato verso l'altro. La prima volta hanno avuto come risultato una composizione armonica, melodiosa, angelica quasi. La seconda volta invece, suonandoli al contrario, hanno avuto come risultato una composizione demoniaca. Infatti si narra che anche le panche all'interno della chiesa hanno iniziato a levitare. Questa è una delle tante vie che costituisce quartieri spagnoli. Questo è un fiocco di neve, un dolce caratteristico qui a Napoli. Un disastro. Cosa ve lo dico a fare? Questo è il paradiso dei papà. E come si può andare a Napoli senza assaggiare un babà? Qui ci troviamo all'interno della galleria Umberto I di Napoli. Che dire, a me piace un sacco. Che dire, a me piace un sacco. Che dire, a me piace un sacco. Un sacco di donna, un sacco di donna. Grazie a tutti. Non so se avete notato, ma ci sono delle statue a forma d'angelo, lì su, e seguono tutta la circonferenza della cupola. E lì dietro c'è il San Carlo. No! Scherzavo, non possiamo andare a visitare il teatro San Carlo perché è in ristrutturazione, quindi si può vedere solo la facciata lì. E questo è il maschio angioino, una fortezza. Qui abbiamo Piazza del Plebiscito e dietro questo palazzo, dietro l'angolino, il teatro San Carlo. Ma adesso ci avviamo verso il lungomare di Napoli. E quello lì è il Vesuvio, esattamente quello. La costiera amalfitana. Lì sotto, Capri, Castel del Lovo. Sotto Castel del Lovo dovrebbe esserci un uovo di Fenice, secondo l'antico poeta Virgilio. Napoli ci saluta col suo tramonto. Buona notte da Napoli.